La Lucio è compagnia bella ragazzi Allora Forse ha be' compagni Puoi starci dai Puoi starci Niente di incredibile un po' nerfato Vediamo se ce lo droppa ragazzi No vabbè c'è dato Vialli Vialli E anche la Kebler Non c'è dato Tevez Andrè Però vabbè Vialli Kebler Mezzo mezzo Niente di Questi sono belli ludopatici pure Eeeh Vicenza vabbè mandami la squadra se vuoi Che te la guardo subito Vabbè Di Bala ce l'hai già appunto Ho preso Musiala apposta frate Che te ne fai Di Bala Anche se quello è 4-4 comunque Vabbè ma che te ne fai Non te ne fai niente Non te ne fai nulla Nesta baby o Cannavaro Eeeh No aspetta Nesta birdy detto Nesta birdy Nesta birdy molto meglio Molto meglio Nesta birdy molto molto meglio Assolutamente si Ben diventa 93 Ha vinto 4-0 Eeeh Scusami il trackhead ce l'abbiamo Il trackhead il trackhead il trackhead Vediamo Te la ridi ah Shark bravo Grazie Sasha Dopo ci butta un'occhiata Non ti preoccupare Eeeh Eeeh Eh si Nicola ti mancava l'altro gruppo Ti mancava Ecco perché non vedevi consigli Compra vendita Giustamente Sono due gruppi Ricordatevi Per chi è abbonato Sono due gruppi esclusivi Eeeh Non vi dimenticate Di lunedì Di lunedì viene Fabio E lo so io ho chiesto la disponibilità Di lunedì Sì Di lunedì Fabio Io quello ho chiesto la disponibilità Dovrebbe essere possibile Non penso che mi dicono di no Però Sì a mai Devo chiedere perché mi devono poi dare Ordine di biglietti Capito Non penso che mi dicono di no Però Però in teoria In teoria dovrei esserci Ecco Dovrei esserci Allora Andrea Sì ti ho messo Nel principale Ti ho spostato Vai L'arenato la possiamo far volare Eh sì Nel C-long proprio Nel C-long proprio Buonasera Buonasera Fernus Agi nome più forte di Harry Basso esterno sinistro No Agi è un C-C Esterno Harry è un esterno invece Eeeh Marco invitami Invitami Antonio Antonio Malefico Malefico Grazie a te comunque per Per i consigli ragazzi Eh grazie raga Ho visto che molta gente È rimasta contenta comunque Grazie come sempre Per Cioè per il supporto Per quello che fate Per i ragazzi Raga Epici direi Stavo dicendo Oggi non è male Andrea È 5-5 Più che altro Quella è la cosa figa È 5-5 Cioè Eeeh L'evolvo Chi sarebbe Arauco forse Shark intendi Eh Marco invitami Ma no Fabio Ma no ma cosa Allora Mannaccia a te Mannaccia Perché La 5-5 skill O 5 debole Io farei quella Con le 5 debole Però dipende da voi Dipende ragazzi Certo che siete ancora in tempo Cri Ci mancherebbe ragazzi Siete ancora in tempo Quando volete ragazzi Potete farlo Ci mancherebbe Allora Ren Ok perfetto Eeeh Questi li possiamo scartare Perfetto Vamos Non posso rimettere stories Ho capito Siete maledenti Allora Eeeh Due e tanto do più Non le vedrete più Di anche quello che faccio Off streaming Assolutamente Siete Dei maledetti Li ho visti direct Pure su insta Comunque Li ho visti Li ho visti Eeeh Ho visto il gruppo Kiki Ma questo per il poche Voluscio com'è Interessante Anche Varane 5-5 interessante Raga Non è male Non è male Anche Varane Sì no Varane Un bel giocatore Non è malissimo Eeeh Perché lì lo costa così tanto Perché è un pick E perché comunque Si possono trovare Bei giocatori Comunque Allora Eeeh Beh gli altri 5 scrive 5 debole 5 debole Live Secondo il mio punto di vista Molto 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 meglio Ragazzi Eeeh Ti voglio vedere anche noi Non è vero Fatevi tutto Vado a farmi sentire Il mio agio Allora Marco invitami quando vuoi Allora Muller Fabinho Che cos'è il timer? Ah Eeeh Non lo so perché c'è il timer Vabbè Facciamo finta che Che tipo È la fine della live Non lo so Vabbè Tanto per fare un po' di partite Ragazzi Voglio vedere quell'aggi Com'è ragazzi Voglio vedere com'è quell'aggi Portiero italiano Chi è? Ah Lecce Eeeh Vedilo Mi dissocio Shark Assolutamente Fate sempre di tutto Fabio Per farmi sentire il mio agio Grandissimo Poteva rivolvere Varantuono Vedi che ci può Ah ok No non puoi Non puoi Varantuono no Varantuono non lo può Evolvere Però caspita Quel Varantu diventerebbe 5-5 Con il doppio playstyle Andria Non so se l'hai visto C'ha sia il playstyle Quello del blocco Che il playstyle Del 2 Ne ha ragazzi Ne ha 2 Ne ha 2 ragazzi Ne ha 2 Ha il doppio playstyle Eeeh Marco evitami quando vuoi Evitami Cucchi e brant Questi li scartiamo tranquillamente Doppio playstyle Non male Non male Allora Eeeh Abbiamo due pacchetti Vai Andiamo col primo 2.84 più Andrea 2.84 più Che cos'è? Turchia CC E' il buon Hakan questo Questo è super good Per i builder ragazzi Questo Hakan Questo è sicuramente Il Il giudale da buttare Nel builder Per eccellenza Eh si si Anto Sicuramente Sicuramente Ti seguiamo ovunque Ti seguiamo ovunque Cheat Non c'è la miseria Cdc Obedo Fora Mires Ramires Eeeh Non mi da frimpò Che ha più di 90 Eh no ragazzi Devono rispettare i requisiti Altrimenti Non Non ce la fate Non ce la fate ragazzi Devono rispettare i requisiti Raga Inglese Terzio destro No creeper Perché muo vengo eh Muo vengo Chi è la bronze Dai ti prego Dammi Dammi salà Dammi salà ragazzi Eeeh Che cos'è? Chi è? Baski Brogan No Jordi Alba Ok Va bene Va bene Se è sbagliata Non te la dà Non te la dà sicuro Non ti fa fare l'evoluzione Villarreal Che è questo? Eeeh Parico 80 seriete Niente di meno Il grande Parico Ragazzi Ma questo Parico qua Ancora sta nei pacchi Ragazzi Ma perdonatemi Ma Cioè Perdonatemi Ragazzi Ma questo Parico qua Sta ancora Sta ancora nei pacchetti Ragazzi Non ci voglio credere Sto in condivisione Con lui Sì Andrea Dai Dammi uno decente Please Ah Baccia Ok Buccianano Ok Ok Che dicevo io Ma chi è? Ma chi è? Infatti Stava strano Ragazzi 88 Vabbè Questo mezzo Te lo puoi accolare Comunque Metti su Le anche Sì Questo Questo mezzo Mezzo Te lo puoi anche andare a collare Effettivamente Infatti Stavo dicendo Ma chi è ragazzi? Non Non capisco chi fosse Francese Allora Bravo Anto Bravo Peccato per la stamina Di quel bar Però Interi lo provai da Fabio Sì Nesta è bello Nesta è bello Nesta è tempesta perfetta Allora Mamma mia Anto Oggi si moriva Oggi si moriva Mamma mia Ah Ho capito Giordi Alba Questo vale Vabbè 30.000 credit Non tantissimo Primo Giordi Alba Ragazzi Vabbè La Spadone ragazzi È un must Ormai Però dai Non male Comunque Non male Non male Sto Giordi Alba Non l'ho provato Sarebbe da testare Comunque Eh Ci starebbe Ci starebbe Da provare Comunque C'è il tiragiro Agi Sì C'è il tiragiro Come Playstation Plus Ragazzi Torres motore Se vedi che magari è lento Metti cacciatore Non è un problema Metti cacciatore Come dice il buon veteran Va benissimo Sì veteran Sono d'accordo con te Sono d'accordissimo Con te Mettici magari Una bella cacciatore Che vi dico comunque Di corre e corre Ragazzi Assolutamente sì Come quel Puskas Evo 5-5 Ne ho parlato Ho fatto un video apposta Ho fatto ragazzi Ho fatto un video apposta Non è male Quel Puskas Ci sta ragazzi Non è malissimo Comunque queste evoluzioni Sono veramente brogan Raga Hanno spaccato Hanno spaccato il gioco Comunque con queste ipo Ragazzi Sono clamorose Sono veramente clamorose Ragazzi Vabbè Puoi metterle anche Il titolare Luca Perché no Amica è un brutto giocatore Secondo me Con i doppietti Faccio che desideri Facciamo Liro Vuoi fare Liro Gradisci Liro Per me si può fare anche Liro Non è un problema Ragazzi King Base Va nel Liro Sì Fallo volare via Fallo volare Tanto è niente di che Tanto King Base Ragazzi è poca roba E vabbè Dopo che ci fai 2-3 WL Ti scocci poi dei giocatori È normale Vuoi cambiare È normalissimo Hai vero tu E Karim 5-5 Aspetta Qual è Karim 5-5 È 5-4 Quel Karim 4-5 Non è 5-5 Luca Guarda bene Compagnia Ramirez Se vuoi mettere 2 Ramirez è più forte Compagnia di cielo Mi fa impazzire Il Fantasy Sì Ma l'UCL Non mi fa impazzire Sincero Mandami la squadra Magari Tommy Seguimi su IG Mandami la squadra Che ci buttiamo un'occhietta Tranquillo Ok va bene Andrea Mo' vediamo un attimo di Di non consumare niente Di buttare tutti quanti i giocatori Che Se vedi a buttare nel build Non ti preoccupare Eh infatti 5-4 Dicevo io Che cos'è il portoghese Cioci Attenzione Bruno Fernandez Però sotto c'è un icon Ed è anche scambiabile Andrea Ed è anche scambiabile Quest'icon No è close E suker Madonna ragazzi Mamma mia Dei premi della Wicked League Raga Sucker Mannaggia la miseria Mannaggia Vabbè scambiabile Still Grande Shark Buonasera Bello Buona domenica Come stai caro Non skillo molto Gioco più tiki-taka Attaccante con 500k Devi mettere uno Che gioca la palla a terra Tipo Anche un Douglas Anche se non ha Un grandissimo passaggio Eh sì Immagina Se usciva il capellone Gullit Andrea Magari Magari Ieri Anche Anche Marchisi È un bel giocatore Comunque Buonasera Antossi E poi ho startato da poco Tanto ci proviamo i giocatori Facciamo le cose con calma Facciamo tutto quanto Giardino Base com'è Mettici finalizzatore O predatore Tranquillo Tranquillo Passa che mi segui A me Questo è il link Mandatevi un messaggio Che ci buttiamo Un'occhiata Tranquilli Tranquilli Zielischi Addirittura Il grande Zielischi 83 rete Dalla Dommi Dommi Eccolo qua Eccolo qua Allora Questi li buttiamo sopra Facile La carriera online Ragazzi Non credo che arriva L'anno prossimo Non penso Non penso Raga Non penso Anche perché Come abbiamo detto Più più volte Se tu vuoi fare Una carriera online Come la dovresti impostare Cioè dovresti avere Delle persone connesse In quel momento Che vanno poi a Cioè capito È difficile Secondo me È tosta Zii Ehm No non lo so Secondo me è un po' scam È un po' scam Dai È un po' scam Ziela carriera online Allora Ehm Sì è vero È vero È vero Però vabbè ci sta Raga Onesto Ci sta Ci sta No vabbè È carina È carino come Concetto Ma c'è già l'ultime team Capito Quello è il discorso Ehm Chi è Chi sarebbe Shark Dammi un nome Dammi un nome Qualsiasi Vediamo un attimo Se Vediamo se Se è Se è worth Vediamo se è worth Zii Formula una carriera online È detenficato Sì però Sì però Vediamo il discorso Mi pare che se Tu la fai su Ultimate Team Come la dovresti Strutturare Come dovrebbe essere Secondo te Se tu la vai a fare Su Ultimate Team Cioè capisci che sarebbe Una Sarebbe veramente Tosta Capito Da strutturare Una carriera online Non ce la fai Non ce la fai Voglio vedere i picchi Eh sì Volemoli Facciamo quelli là Ragazzi Anzi Se volete Invitatemi Che ve li apro Ci mancherebbe altro Allora Barcellona Chi è questo Spagnolo Signori Sandra Panos Sandra Panos Olè Vai La grande La grande Sandra Panos E c'è anche Onana Comunque Ragazzi Mamma mia Darietto 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 Come stai Carissimo Malefico Portoghese Cocci Tutto bene Marco Buonasera Come stai Bruno Fernandez Ah Vabbè 88 rated Questo va a vola Anche nel builder Benissimo Darietto Benissimo Te invece che mi dici Questo è il doppione Godo 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 Io sono solo tuo Darietto Ricordatelo Sempre e comunque Fino a che ora stai Non lo so ragazzi Non abbiamo orari In realtà vorrei aprire un po' di pacchetti Quindi ci sta ragazzi Allora Lione Lione Chi è questo? Anzi Chi è questa? È la handler È la grande handler È la grande handler Vedi? Vedi Marco Non è vero Ti penso sempre Non è vero Nicolò Buonasera Buonasera Marco Ciao Nico Tutto bene? No in realtà Capri Voglio provarmi anche agi Ce l'ha Marcello L'ha sbloccato Allora Italiano Attaccante Immobile Immobile Maledetto Darietto Come Nico? Ma non sei nei due gruppi Sei solo in un gruppo Tu mi sa Schiacci i due gruppi Schiacci i due gruppi Com'è? Alto di aveva messo ieri sera La lista dei giocatori Che dovevate andare a sbloccare Cioè Dovete andare a comprare A comprare Ragazzi Tutti quanti i vari I vari I vari Le varie categorie Non le hai viste Nico? Si vede che non sei entrato Nell'altro gruppo Raga Sono due Raga Ricordatevi Cioè C'è il primo Che è Free Talk E poi c'è anche l'altro Sì Sono due gruppi Nico C'è il primo Si chiamava gruppo Sub Free Talk E l'altro solo Compravendita Capito? Te devi entrare in quello Compravendita Capito? Eh se non ci stai È normale Che non Non li vedi Sì Capito? Pacchetto due giocatori Io sono stato I piccati con Perché c'erano due temi Della companion Diceva due giorni E oggi l'hanno tolta Che scam Allora aspetta Dobbiamo buttare immobile Quale? È l'unico Buonasera Secondo me è l'unico Raga È gratis Se volete Ve lo fate gratis Raga Va bene Ma tanto Marcea 5-5 Non sarà scarso Non sarà scarso E Dove sono usciti Luca stasera? Ramirez con ombra Ragazzi con ombra Sarebbe la pena Spendere l'info di Varane Per un'app 300k Basta loro Basterebbe Se non è loro Non è male Come ha detto Ale L'unica pecca ha la stamina Però secondo me Non è male Varane Cioè io l'ho provato da Fabio Perché l'aveva sbloccato L'evoluzione Ed era veramente forte Raga Cioè io non ho sentito Tanto la stamina Sincero Raga Poi vedete voi Io vi do un consiglio Provateli quei giocatori Tanto malchiamata Li prendeteli Li fate volare Poi Raga Cioè provateli Almeno testateli Ragazzi È normale King si prova Non posso Perché possiedono Possiedono Una sua evoluzione È buggato Però farlo Dalla web app Magari Giuse O dalla companion Vedi un attimo Se riesci Fra Non lo so Può essere buggato Magari Tipo Andre Tu non A te non ti fa Questare i points Non te li fa prendere A te Zero Zero E provo Usci a rientrare Eventualmente Provo Usci a rientrare Vedo un attimo Se ti ridazzi Però magari Usci a rientrare Può essere che non va Magari Lo metti Sguardo Ti conviene Ti conviene Marce Ti conviene Anche perché lo metti Ciocci Quell'agi Allora Agi Secondo me Va messo Ciocci Con cacciatore Lo metti Ciocci con cacciatore Secondo me Va una meraviglia Va una meraviglia Secondo me Cosa metto a foot Tantadove Metti una bella cacciatore Mettici Si Mettici cacciatore a foot Che non è un brutto Giotore Insomma Ti va Cioè va bene Può metterlo da esterno Footre O lo metti da esterno O lo metti da ciocci Non lo mettere punta Chiaramente Perché Non ha Non ha il Si Quello si ragazzi Non lo mettere punta Non lo mettere punta Non ha senso Addirittura Holland 91 rated Addirittura Il grande Holland Vabbè Questo qua lo buttiamo Nel builder Facile Questo lo scartiamo E via Si Holland ragazzi E' l'altra carta Che Secondo me Quella centurion C'è te Lu Non è male Se lo utilizzi Con quei doppi passi Utilizza con quei doppi passi Dritto per dritto Può starci Può starci E' chiaro che non Non lo devi mettere Cioè non lo devi intendere Come un giudatore Che Nello stretto Come ciocci Ti fa la differenza Perché non è un ciocci Capito Lo devi andare a mettere Tutta la vita Da 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 punta Punta Dritto per dritto Doppi passi E voli Voli facile 284 più Attenzione Vediamo che trovo di qua Canadese Attaccante David Questo No non è David David Shit Vabbè Dai Questo è la Rin Questo uscirà sempre Non so perché Ma con questa netta sensazione Questo Eh sì 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 Questo qua sì Secondo me Arriverà sempre Sarà una delle carte Più droppate del gioco Secondo me Questo qua ragazzi In questa settimana Preparatevi che Lo beccheremo sempre e comunque Come carincia winter L'ha appena trovato Carincia ragazzi Un bel esterno È un ottimo ottimo esterno 50 euro per un pacchetto di fio Esagerato Mi sa che siamo arrivati Anche a 60 Forse quest'anno Credo eh Credo Allora Grazie a tutti.